Il successo è una responsabilità o una libertà? Bene, ciao! Bene, 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 siamo liberati di Rolando, andiamo avanti! È per Paolo, è per Paolo la domanda! Sembrava Marzullo, improvvisamente! Il successo che cos'è? È un'opportunità! Un'opportunità! Infatti adesso ci fanno fare un film a New York, che voglio dire, senza aver fatto un film di successo, sinceramente non penso che sia libero mai fatto! Che sarà l'ultimo che faremo, perché funziona così, tu fai un film di successo, poi ti danno la possibilità di fare un film con più budget, tu ti allarghi, sbagli e finisci lì! Quindi questa sarà l'ultima intervista che faremo insieme, tutti quanti! Nel senso che tutto questo successo che avete avuto con questo film, peraltro meritatissimo, vi ha fatto sentire, non dico più insicuri, però avete pensato, beh, adesso bisogna mantenere lo standard alto, oppure adesso ci possiamo permettere di fare anche delle cose un po' pazze, ecco, come vi siete sentiti? Vogliamo fare i seri? Sì! Ma io personalmente quello che pensavo prima lo penso tuttora, cioè penso che bisogna spostare un po' più in là, potendo i confini del cinema italiano. 9 volte su 10 i film che vengono pensati o richiesti, soprattutto dalle produzioni qui in Italia, nascono, vengono pensati, realizzati per chiudersi nei confini italiani, che è una cosa che non capisco un po' da tafazzi, non comprendo perché non dobbiamo fare film, siamo capaci a fare film esportabili e credo che dobbiamo pensare in positivo e provare ad allargarci. Il mercato solo italiano non esiste più, cioè è proprio un altro tempo, è finito, basta, dobbiamo provare a uscire da qua. Sì, insomma, c'è anche la necessità di rischiare un po' di più, chiaro, lo diciamo, noi dopo un film che è andato bene, però è un film dove siamo presi delle responsabilità, perché comunque era un film difficile, tutti in una stanza, eccetera, ma andando oltre i perfetti sconosciuti, i film della stagione scorsa che hanno avuto successo, oltre ai perfetti sconosciuti, ricordo il film di Virzi, La Pazzagioia, Gig Robo, il film con Accorsi, Veloce come il vento, Accorsi, insomma, film assolutamente diversi tra di loro, però con un filo rosso, su me che li univa tutti, che era quello di non essere uguali a nient'altro che c'era stato prima. Quindi in qualche modo film che hanno in qualche modo rischiato, che cercavano di non andare su un solco già tracciato, ma di avere una propria originalità. Ecco, quello penso sia il rischio che ci dobbiamo prendere, andare a raccontare una storia da un punto di vista nuovo, originale. Poi i temi, insomma, non dico che sono stati trattati tutti, ma quasi, in cent'anni di cinema. Però l'originalità del punto di vista, insieme un po' all'internazionalizzazione della storia, che non vuol dire, appunto, noi capi di andare fuori, ma non è per quello che fa un film internazionale. Un film internazionale è quando comunque possa essere capito e decodificato da tutti. Lo puoi fare anche chiuso un'ora e mezzo in un ascensore, o come abbiamo fatto noi, un'ora e mezzo intorno a una tavola. Però poi quando il racconto ha un interesse, un appeal che va oltre i confine, diventa in quel modo un film internazionale, insomma. Provarci. Rolando è anche regista, poi gli attori con cui appunto hai lavorato in Perfetti Sconosciuti, sono degli attori che conosci, adesso hai parlato di altri registi. Siete una vera famiglia tutti insieme, perché mi viene da pensare, anche in base a quello che un po' hai detto, che si è tornato un po' ai tempi del grande cinema, della grande commedia all'italiana, in cui ci si riuniva, ci si raccontavano le idee, in cui non si era gelosi, come è avvenuto qualche anno fa, dei propri progetti. Insomma, vedo una solidarietà di fondo tra tutti. È così o è una mia visione distorta? Oddio, proprio tra tutti magari no. Però noi ne abbiamo parlato tanto. A me è capitato, è stato uno dei regali della mia vita di lavorare con Scola. Ci dicevamo proprio, Ettore me mi diceva che in sceneggiatura, almeno in tre bisognava essere. È rarissimo che si trovi in una sceneggiatura in Italia scritta da tre persone, in genere c'è uno sceneggiatore solo. Invece noi abbiamo avuto la fortuna, spero che duri tantissimo, di scrivere in più persone, perché è una festa. Ti diverti, vengono idee, non c'è competizione. Si è creata una strana bolla che riguarda più persone, per fortuna. Poi non so, chiaramente non è che conosciamo tutti, abbiamo lavorato con tutti. Però c'è questa bolla dove si sta sereni e si riesce a lavorare serenamente e a buttare sul tavolo idee nuove, senza paura che qualcuno te le rubi. Frega niente. Cioè, un'idea viene a me, la fa lui uguale. Cioè, ci basta che qualcuno la faccia. Poi, insomma, devo dire che c'è un po' una generazione che si frequenta, a prescindere, no? Quindi, a parte con Rolando, con Edoardo Leo, con Massiano Bruno, con Fausto Brizzi, con tutta, insomma, anche di attori, tutti uomini, sentito? No, c'è Anna Coglietta, c'è Alba, insomma. Comunque, la cosa che trovo, stiamo prendendo consapevolezza, molto importante, del fare gruppo, rispetto alla generazione dei nostri maestri, scuola, monicelli, eccetera, eccetera, è che per noi, se ragioniamo bene, sta diventando anche una necessità, perché a differenza di allora, oggi, il cinema italiano va male. Parliamoci chiaramente, sì, no, la rinascita, ogni tanto, lo dico anche al nostro film, la rinascita, no, la rinascita è quando, per un certo periodo di tempo, per un certo numero di film, l'industria, il settore, comincia ad andare bene. Un film non è la rinascita di niente, è un film. Ed è un periodo difficile, al netto di Espluà, quest'anno siamo stati fortunati, è toccato a noi, c'è stato il film di Zelone, ma al netto delle punte, la media è preoccupante, nel senso, il cinema italiano ha una media in casi bassa, e sempre in discesa. Quindi, il fatto di fare gruppo, il fatto di fare squadra, diventa anche una necessità. Dobbiamo assolutamente avere la consapevolezza, che se il film di Rolando va bene, fa molto bene anche il mio prossimo film. Se il film di Massimiliano Bruno andrà bene, fa bene al film di tutti, perché diventa un circolo virtuoso, dove ogni film aiuta quello successivo. Abbiamo visto, oggi, il pubblico te lo devi meritare. C'ha un'alternativa televisiva, Netflix, Sky, le reti, c'ha un'alternativa di scelta da casa, incredibile. Quindi ti devi meritare che venga a vedere il tuo film, che esca, che spenda 10 euro di biglietto. E nel momento in cui tu riesci a meritartelo, probabilmente avrà un po' più di fiducia nel cinema italiano. Quindi dobbiamo far gruppo, e sperare che questo piccolo e ristretto mondo del cinema, perché non siamo tanti, non facciamo tantissimi film, possa in qualche modo invertire di tendenza, e far riprendere l'industria.